Ciao amici di Storie Parallele, quest'oggi vedremo per la prima volta un dessert, quindi un dolce dell'antica Roma. Questa ricetta è tratta da un libro di Catone e il Censone, Liber de Agricultura, scritto nel II secolo a.C. Quindi è una ricetta ancora di età repubblicana, ad opera di un autore che era molto legato alle tradizioni del mos maiorum romano, quindi molto legato alla politica conservatrice dell'età romana, quindi molto legato ai valori tradizionali romani e dell'antichità, ad esempio lui era un oppositore del circolo degli Scipionici che era invece legato più alle culture lenizzanti. Quindi questa ricetta è effettivamente per Catone la riproposizione di dolci, di un dolce, della tradizione vera e propria romana, quindi senza ancora tutte le influenze ellenistiche, comunque greche orientali, che poi risolveremo invece in altre ricette di età tardorepubblicana o di età imperiale. E questi globi ora Samuele ci illustrerà gli ingredienti. Esatto, allora abbiamo 200 grammi di ricotta, abbiamo 120 grammi di farina, poi abbiamo dei semi di apavero, poi abbiamo dello strutto e del miele. Allora, nella ricetta dicono che comunque hanno le solite dosi, sia la ricotta sia la farina, io vi propongo di metterla del 60% del peso della ricotta, quindi 120 e 200. Perché abbiamo sperimentato, no? Con Leo, che abbiamo provato precedentemente e altrimenti l'impasto risultava troppo farinoso. Quindi procediamo. Come potete notare, pur essendo dolci, manca lo zucchero di canna o comunque lo zucchero abitualmente utilizzato nelle nostre cucine, perché per i romani non era disponibile, non era conosciuto ai tempi di Catone, serviva per dolcificare i prodotti, si usava sempre il miele, che veniva appunto utilizzato in dosi anche molto abbondanti, quindi potete abbondare sul miele. Tra l'altro, altro consiglio, a volte qua in realtà non è riportato da Catone stesso, però in altre ricette romane sappiamo che spesso si tendeva a forellare, giusto Samuele? A forellare questi prodotti, per poi appunto far colare il miele in maniera che entrasse all'interno e facesse un effetto simile a quello che per noi è lo zucchero nell'impasto. Esatto. Un altro consiglio che vi do è quello di guardare sempre la ricotta, nel senso che se è troppo morbida, logicamente ci vorrà un 10% in più di farina, se invece tende ad essere un po' più dura, logicamente ne andrà leggermente un po' meno, comunque le dosi sono queste. Quando abbiamo finito di impastare andiamo a fare le palline, allora possiamo aiutarci con un po' di acqua, ci bagniamo leggermente le mani e andiamo a fare delle palline di circa 10-15 grammi. Ora questo è il motivo per cui noi ci vogliamo di un cuoco, perché vedrete la differenza tra i miei pallini e le sue. Catone all'interno della sua opera dice che le dimensioni possono essere scelte, insomma lascia libera scelta sulle dimensioni, farle delle dimensioni che uno vuole. Noi consigliamo appunto piccole, una sorta di piccole colpettine, piccoli globi. Andiamo a friggere le palline nello strutto, portato a temperatura di frettura. e facciamo pochi per volta così non c'è la possibilità che si attacchino. Una volta dorate possiamo andarle ad asciugare e poi andiamo a immergerle nel miele. Se avete un miele un po' duro potete metterlo in microonde, 10-20 secondi, così da glassare le nostre palline. Possiamo andare a impiattare i nostri globi. Come abbiamo detto sono dei dolci che possono essere serviti prima del dolce, durante il dolce, ma anche durante il caffè secondo me. Sono dolci, sono dolcetti veramente che si possono usare in tanti modi differenti. È possibile anche che riscontriate delle similitudini con dolci ancora oggi preparati e utilizzati in Italia, mi vengono in mente alcuni dolci di carnevale e di varie regioni italiane. Quindi se siete abituati a vedere dolci simili fatecelo sapere nei commenti perché sarebbe molto carino vedere se ci sono ancora dei collegamenti tra queste ricette romane e quelle delle tradizionali feste italiane regionali al giorno d'oggi. Esatto, andiamo a mettere i nostri semini di papavero. I nostri globi sono pronti. Come abbiamo detto possono essere utilizzati in tantissime maniere. I nostri globi sono pronti. Che facciamo? Li proviamo Leo? Sì, li andiamo a assaggiare. Voilà, andiamo a provarli. Ecco, altra caratteristica di questi dolcetti è che non sono lievitati, nella ricetta di Catone non è previsto, potrebbe essere una variante da provare anche. Sicuramente vi consiglio anche di farli lievitati se avete voglia, ma secondo me sono ottimi anche così. Potete metterci dello zucchero dentro, ma se mettete del miele secondo me non ce n'è bisogno. Sì, come detto appunto si può anche provare a forellare leggermente i globi per far penetrare il miele, ma già così sono molto buoni. Sono molto buoni. Mantengono più il sapore interno, diciamo più neutro, meno dolce, però veramente buoni. Vi aspettiamo per le nostre prossime puntate. Un saluto, ciao!